La sensibilità chimica multipla è una malattia devastante, è una malattia che è riconosciuta a livello internazionale, ma che in Italia non tutti riconoscono. L'uranio impoverito ha innescato anche l'MCS, l'uranio impoverito. I metalli pesanti che sono stati generati dall'uranio impoverito, perché talvolta si crea anche questa confusione. In realtà l'uranio impoverito è solo il mandante, diventi sensibile a tutto ciò che è chimico, diventi sensibile anche agli odori. Sebbene io per i problemi neurologici comunque non sento né odori né sapori, così come non sento caldo e freddo a livello cutaneo, però ne sento le reazioni, ne sentivo fortemente le reazioni, perché hai crisi respiratorie, perché inizi a vomitare, perché puoi avere uno shock anafilattico, infatti devo andare sempre in giro con la siringa di adrenalina. Non puoi stare a contatto con altre persone, sol perché si sono lavate con un sapone normale, che contiene odori, profumi. Oppure il vestiario è impregnato dell'ammorbidente o del detersivo. È qualcosa veramente di terrificante. Il fumo della sigaretta, lo smog, i gas di scarico di una macchina. Io conosco delle persone che addirittura non riescono a sopportare il vestiario e quindi usano abbigliamento particolare di materiale biologico che non dà delle reazioni o non possono fare la doccia con l'acqua normale se non è un'acqua particolare, perché magari ci sono delle sostanze all'interno dell'acqua, per renderla potabile, che innescano delle reazioni gravi. Questa malattia riesco a controllarla. Proprio grazie a quelle sette punture che faccio ogni mattina appena mi alzo, in queste sette iniezioni, che sono sette cocktail di sostanze a cui io sono sensibile, ci sono 25 sostanze in ogni cocktail. Praticamente io ogni giorno mi inietto 175 antidoti, chiamiamoli antidoti, forse si capisce meglio, che mi permettono di entrare comunque in contatto con queste sostanze, tra cui ci sono anche farmaci che io devo comunque prendere e assumere ogni giorno, e che grazie a questa immunoterapia a basso dosaggio, che viene espressamente preparata per me nei laboratori inglesi dell'ospedale dove mi ricovero periodicamente, il Breakspear Medical Center, diretto dalla dottoressa Morro, e io dopo circa tre anni di cure ho tolto la mascherina.